Allora, io avrei delle slide, non so se possiamo, perché cercherò di stare nei tempi, però dovendo decidere di che cosa parlare, perché i due libri, lo dico per quelli che non li hanno ancora visti, sono due libri molto complessi che affrontano diversi temi, il secondo è molto più legato veramente a concetti di libertà di espressione, il primo, quello della professoressa del Minico affronta vari temi e adesso vediamo la, perché io diciamo a proposito di tecnologie in ambiente, non Mac dovrebbe essere F9, no 5 e Microsoft, giusto? No, però no perché è un pdf, aspettate, però voglio dire, nel libro della professoressa del Minico si affrontano diverse questioni, sapientemente messe assieme che poi sono le varie questioni della nostra agenda, anche come autorità, non soltanto nazionale ma anche europea, cioè da questioni di tipo costituzionale a questioni che riguardano l'uguaglianza e l'accesso che poi si traducono in meccanismi complessi e assolutamente attuali e quando dico attuali intendo anche a strumenti organizzativi che oggi abbiamo deciso, per esempio su come affrontare il regolamento europeo sulla net neutrality, cioè su come trattare in modo non discriminatorio sia l'accesso alla rete nella funzione del traffico, sia anche gli aspetti commerciali, quindi temi abbastanza complessi, inclusi anche quelli dell'accesso universale alla rete, oltre che dell'accesso alla rete nel senso di internet, che sono temi sui quali siamo molto presenti. Però pensando anche all'amico Antonio Preto e alle discussioni che noi facevamo, anche un po' sulla frontiera, quindi di cose che non sono direttamente applicate alla nostra attività di commissario, ma più attività di studio, allora mi fa piacere prendere uno spunto di una questione che abbiamo iniziato a discutere con lui, anche se io insegno politica economica e cercherò di vedere in che senso alcuni economisti hanno dialogato con questi temi giuridici, con Antonio noi riflettevamo su questo tema, abbiamo anche scritto un piccolo articolo per solo 24 ore sul tema della Commissione, diciamo così, del Presidente Boldrini, su due questioni sulle quali merita avere un dibattito, cioè la relazione, di cui non parlerò in questa sede ma magari in altre, fra libertà, tra parentesi, digitale e proprietà, tra parentesi, digitale. In quel pezzo noi noteramo come siamo di fronte ad una novità inedita nella storia dei capitalismi e delle due grandi famiglie che abbiamo, quella del capitalismo statunitense e quella invece del socialismo, quindi partendo dalle tradizioni di inizio del Novecento, sulle relazioni tra libertà e proprietà, nel senso che l'approccio, diciamo così, anglosassone vede nella proprietà privata lo strumento principale per la valorizzazione della libertà, la tradizione di tipo più socialista vedeva invece nel superamento della proprietà privata e quindi nella proprietà di tutti o nella non proprietà l'espressione massima della libertà individuale e sociale. Qual è il tema? Che quando trasferiamo questo aspetto sulla digitalizzazione si crea un inedito divorzio, perché la libertà di espressione produce dei dati e quindi dei valori economici proprietari la cui proprietà non è del soggetto che la crea, quindi abbiamo la creazione di beni economici resi pubblici attraverso l'espressione della libertà la cui proprietà è privata ma non è del soggetto, quindi una separazione inedita fra proprietà e libertà. Il tema invece di cui voglio parlare oggi è un altro che si affianca a questo che è quello, diciamo, quindi un po' più filosofico se volete della relazione fra libertà, ovviamente intendo libertà sulla rete, e verità, che diciamo non intendo fare un discorso, come dire, filosofico ma spiegherò perché e parto proprio da questa citazione del libro, di un primo articolo del libro della processa del Minico, e cioè sul discorso che pure è stato qui accennato, che tutti condividiamo, e cioè dell'idea che essendo il luogo della libertà di espressione, quello che avviene nella rete, va tutelato non soltanto da un punto di vista, come dire, costituzionale, proprio come tipologia di espressione della libertà, ma anche rispetto agli esiti che produce. Poi c'è un passaggio molto importante perché nel fare questo tipo di dibattito dobbiamo capire se siamo, come dire, se ci sfermiamo ad un ambito di dominio di diritti individuali e quindi ci disinteressiamo degli esiti o se siamo conseguenzialisti e quindi difendiamo sia il principio sia gli esiti che produce. Siccome tutta questa dibattito, mi perdoneranno i costituzionalisti italiani e continentali, ma io anche per parlare meno di cose direttamente nostre, mi sto basando molto su un dibattito che faremmo in America, quindi sto in qualche modo affrontando il tema, non guardando specificatamente all'Italia. E qui c'è la citazione della processa di Minico, cioè questa idea della libertà sulla rete ha un presupposto storico-culturale molto forte, costituzionalmente indotto negli Stati Uniti, nella tradizione di Comolo, che è la nozione di marketplace of ideas, per la quale sostanzialmente freedom of speech, la libertà di parola e di espressione, si impone come un punto fondamentale della democrazia per gli esiti che produce. Cioè non soltanto è importante difendere i diritti di ciascuno all'espressione di se stessi, ma attraverso l'enforcement di questo diritto la società raggiunge nel complesso un esito migliore per tutti, che è quello della difesa della democrazia. Ma qui la cosa che mi interessa da economista è la nozione di marketplace of ideas, cioè mi interessa questo riferimento alla relazione fra libertà di espressione, esiti, chiamiamoli migliori possibili dal punto di vista del benessere sociale, e meccanismo attraverso il quale si realizzano questi esiti che è il marketplace. Per far questo, quindi io chiamo questa cosa il mercato della verità, però diciamo è un po' una provocazione, soprattutto per i giuristi e per altri, per i filosofi, pensare di mettere insieme il concetto di verità col concetto di mercato. Allora il punto di partenza della marketplace of ideas, come molti di voi sanno, risale al saggio On Liberty di John Stuart Mill, che è la prima formulazione della libertà di espressione, a cui siamo nel pieno dell'evoluzione del concetto liberale, la rappresentazione della libertà come strumento non soltanto di difesa individuale, ma come meccanismo per il quale la società raggiunge un risultato migliore per tutti. Ci sono diversi aspetti interessanti che sono tutti quelli citati prima, che sono quelli che si trovano in ogni discussione sulla libertà, cioè il primato della libertà di espressione, l'idea di contestare le diverse espressioni per raggiungere degli esiti di conoscenza migliori della società, il dibattito sul cosiddetto no platform, cioè le cose delle quali non si deve discutere. Blasfemia si diceva, ma può essere anche il discorso sul razzismo, può essere il discorso sulla cosiddetta N-word negli Stati Uniti, per cui non si deve usare la parola nigger, tutta una serie di questioni, il giorno della memoria rispetto al diritto all'oblino, cioè il ricordare certi fatti che riguardano l'umanità, la lotta contro il negazionismo storico di certi fenomeni, cioè anche questioni che riguardano non solo ciò che deve essere detto e difeso, ma ciò che non deve essere detto perché difende degli altri diritti. Come sapete qua, è inutile aprire, ma questo è il dibattito fondamentale su tutta la letteratura sul free speech. La cosa interessante di John Stuart Mill, quello che lui diceva è un po' il contrario di questo, tendenzialmente noi dobbiamo difendere la libertà di espressione perché la libertà di espressione di tutti, quindi non soltanto del singolo individuo, ma del singolo individuo contrapposto alla libertà di espressione degli altri, produce una contesa che alla fine farà sì che le migliori idee sopravviveranno. Quindi in qualche modo che il contested exchange di idee, potremmo dire di mercato, marketplace, produce un esito migliore di tutti e non dobbiamo aver paura di avere il soggetto che ci contesta perché grazie a quello che contesta la nostra verità, in qualche modo noi riusciamo sempre, attraverso questo challenge, a riconfermare la validità della nostra opinione. Perché ho citato John Stuart Mill? Perché lui è il primo a porre la relazione fra marketplace e difesa della verità. Naturalmente qui ci addentriamo e apro adesso un elemento abbastanza delicato perché questo tipo di, non è un caso che John Stuart Mill in qualche modo si iscrive a quella stessa tradizione liberale di Adam Smith, cioè l'idea è che attraverso lo scambio di informazioni private che si riesce a realizzare attraverso un meccanismo che è di mano invisibile, un benessere per tutti. Allora questo lo dico perché spesso questa nozione di libertà sociale è affermata, almeno in questa tradizione, collegandosi ad una nozione di mercato, cioè ad una nozione di scambio, e quando dico di mercato intendo di scambio non regolato e paritetico di opinioni e quindi diciamo di un mondo senza regole. Questa nozione è tipicamente poi ulteriormente raffinata da Fonayek quando Fonayek evidenza che il ruolo importante del mercato è esattamente quello di prendere informazioni che sono disperse nella mente di ciascuno di noi, banalmente per esempio per arrivare ad un prezzo di equilibrio di mercato, informazioni disperse tra potenziali compratori e potenziali venditori che rispetto alla rivelazione di mercato dei propri bisogni riescono a raggiungere un punto di equilibrio che è poi quello che conduce attraverso il mercato, per coloro che credono alle virtù univoche del mercato, produrrebbe un equilibrio migliore per tutti. Quindi la cosa a cui voglio evidenziare è che nel passaggio da Fonayek e Smith l'idea è quella di dire attraverso lo scambio di mercato, quindi di informazione e conoscenza dispersa, si arriva ad un risultato migliore per tutti. La sintesi tra tutte queste cose sta in questa dottrina che si chiama Marketplace of Ideas che parte dal giudice Holmes, in particolare nella sua dissenting opinion di questo famoso caso Abrams verso Stati Uniti del 1919 nel quale Holmes dà luogo alla nascita di quella che si chiama la Marketplace of Ideas Doctrine, cioè una dottrina che difende il free speech mettendo insieme il collegamento col primo amendamento, ma soprattutto dicendo noi se vogliamo affermare la verità dobbiamo difendere la libertà di espressione. E questo è un punto importante che voglio sottolineare quando affrontiamo il tema della libertà sulla rete, perché almeno in quella tradizione c'è la presunzione che la libertà di espressione sia uno strumento per raggiungere un fine più ampio e non sia soltanto una difesa di per sé. Perché dico questo? Perché tutta quella enorme giurisprudenza sul primo amendamento si va poi a scontrare con l'idea che se libertà di espressione deve essere, non deve essere regolata. La cosa crea problemi quando per esempio anche la pubblicità neannevole può essere una libertà di espressione, che invece come sapete è tipicamente un ambito che viene regolato ma ci arrivo. La cosa importante è capire che questa definizione è molto bella, cioè free trading ideas, the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market. C'è una concorrenza di idee sul mercato e si afferma la verità. Questo mi riporta, brevemente perché vado a concludere, a tutta un'altra letteratura, questa volta veramente filosofica ma molto interessante, per esempio può stenessere a partire dagli studi di Foucault raccolti in questo saggio che si chiama Discorso e Verità, nel quale lui sostanzialmente rivede tutta la tradizione greca dell'antica Grecia, in particolare in relazione al confronto fra i meccanismi della retorica, Giorgia e altri, e i meccanismi di quella che lui chiama la paressia, cioè discorsi volti a rivelare attraverso il confronto dialettico la nascita della verità. Qui il messaggio è molto semplice, quello che lui dice, attenzione, la retorica può servire a conoscere la verità, lo dico in modo molto banale, soltanto se il confronto fra posizioni diverse, quindi questo scambio di idee, si realizza tra persone che hanno una competenza. E qui c'è il discorso della relazione fra sapere e tecnica, che ovviamente non è questa la sede per risolvere, ma è importante questo passaggio, quindi non è necessariamente vero, secondo Foucault, riprendendo la tradizione greca, che basta un confronto di libertà di espressione perché si arrivi ad una verità, questo meccanismo funziona nel momento in cui questo scambio viene fatto fra persone competenti. Dopodiché qui c'è tutto un discorso filosofico nel quale mi sono perso, perché il tema è che per essere competenti bisogna conoscere la verità e allora il dibattito è, ma allora le persone che si confrontano sono persone che conoscono la verità e si confrontano per questo o confrontano la propria opinione della verità? Sembrano questioni filosoficamente molto complesse, ma se poi le andiamo a tradurre come cercherò di fare nei dibattiti che vengono sui social network ci dobbiamo chiedere, e pensate a tutto il tema delle bufale, se questa relazione profonda tra libertà e verità non sia qualcosa della quale bisogna riflettere. Questo signore che vedete qui si chiama Alfred Sykes ed è stato presidente della FCC negli anni di Reagan, perché è importante tra le altre cose? Perché in quegli anni hanno eliminato la cosiddetta Fairness Doctrine a proposito di par condicio, la Fairness Doctrine era una regola dei broadcasters americani televisivi che affermava qualcosa che somiglia molto alla nozione nostra di pluralismo interno, cioè c'era un obbligo da parte delle emittenti radio televisive di cercare non soltanto di dare la parola a tutti, ma di dare tutte le volte che si sosteneva, che si intervistava qualcuno a favore di un certo tema e bisognava subito cercare di intervistare un altro che la pensasse diversamente. Quindi un obbligo a dare sempre di ogni aspetto teorico una bisogna plurale perché questo serviva a raggiungere appunto un concetto di Fair Access. Fu eliminata questa norma perché nel momento in cui si liberalizzò l'etere si disse non c'è più un bisogno di pluralismo, lasciatemi dire, interno perché esistono più voci che si supera la scarsità dell'etere e quindi quello che vale invece il passaggio al pluralismo esterno dove è importante che, non è importante, cioè per Sykes era importante, però diciamo la conseguenza è che tu puoi avere diversi soggetti, anche diversi emittenti, specializzati a rappresentare il pensiero soltanto di una parte e tu lo sai a quel punto come ascoltatore che poi se non ti piace cambi canale e vai a cercare un'altra espressione. Quindi il passaggio anche qui ad un'idea di concorrenza e di mercato in relazione alla libertà di espressione e all'affermazione di una verità è molto importante quello che dice l'FCC, noi dobbiamo passare da un diritto diciamo così alla verità, usano proprio questa frase citando il giudice che vi ho citato prima in quella sentenza, di un diritto alla verità e all'informazione vera dell'utente ad un diritto ad ascoltare, cioè lui ha il diritto ad avere un'offerta plurale, quindi attraverso la liberizzazione dei mercati, dei media, noi riusciamo a raggiungere questo successo. Ora c'è, questo invece è un giovane contemporaneo economista molto bravo americano che ha fatto vedere che la questione della relazione fra concorrenza e libertà quindi economica e capacità di formare opinioni, di rivelare la verità sui mercati dei media dipende, quindi la capacità della concorrenza di raggiungere quel obiettivo che abbiamo visto del giudice Holmes di rivelare la verità nel marketplace of ideas funziona, questa idea del pluralismo esterno funziona quando abbiamo delle distorsioni cosiddette supply side, ve vado a finire, cioè determinate dal lato dell'offerta, cioè quando io ho più di un operatore, lui cita diversi casi, c'è anche un modello economico, una misurazione interessante, lui fa vedere che quando c'è uno scoop su un fatto vero o le imprese, se sono diverse imprese sul mercato che siano giornali o che siano media o riescono a mettersi d'accordo per non pubblicare qualcosa che sia rilevante oppure nell'incertezza che lo faccia qualcun altro e che possa acquisire reputazione a quel punto c'è la corsa a dare la notizia, quindi lui dice in questo caso il pluralismo esterno funziona per rivelare la verità, quando le distorsioni sono soltanto legate al lato dell'offerta, però ci sono anche distorsioni che, devo dire, gran parte dell'attività economica, ma molta della dottrina giuridica tendono a dimenticare, cioè le distorsioni che avvengono dal lato della domanda, che significa distorsioni di tipo cognitivo, le distorsioni di chi ascolta. Tutta la letteratura sul marketplace of ideas, come tutta d'altra parte la letteratura sui mercati smittiani e per i beni economici assumono consumatori razionali, non soltanto produttori razionali, consumatori capaci di raccogliere bene le informazioni, di elaborarle e di fare ciò che è il bene per se stessi. Quando ci sono distorsioni di tipo cognitivo o che possono essere anche distorsioni di tipo ideologico, cioè un consumatore di notizie che è interessato a consumare soltanto un certo tipo di notizie, non gli interessano tutte le altre, quindi è interessato soltanto a cercare un certo tipo di conoscenza, in questi casi evidentemente la concorrenza con il meccanismo esterno non funziona, perché lui fa degli esempi interessanti di scandali che ci sono stati in America, tra repubblicani e democratici e tra vari giornali, difficilmente un partisan di una parte politica è interessato a cercare notizie che possono essere delle falsificazioni rispetto ai propri beliefs politici e quindi c'è invece una tendenza alla polarizzazione, quando c'è questa tendenza alla polarizzazione la concorrenza come strumento per rivelare la verità non funziona. Con due altre cose, questo è COS, COS scrive nel 1974 un articolo molto interessante che li vedo sempre per quelli che mi conoscono, perché è interessante? Per due ragioni, uno perché COS originariamente è uno degli economisti di Chicago e quindi del sostenitore del free market, il quale a un certo punto dice ma io non ho capito una cosa, ma perché quando parliamo di beni, servizi delle comunicazioni, tutti quanti ci diciamo abbiamo bisogno di tutelare il consumatore dalla pubblicità ingannevole, dal fatto che non riesce a capire certe informazioni, abbiamo bisogno di tutelare i contratti, abbiamo bisogno e quando andiamo nel mercato delle idee vediamo come primo estinto la regolamentazione come qualcosa di intrusivo. Se un consumatore ha bisogno di essere tutelato dalla pubblicità ingannevole non è il caso che COS dica questo perché sono gli anni in cui ci sono tante sentenze nelle quali i soggetti che fanno pubblicità ingannevole si appellano al primo vendamento per difendere, in molti casi hanno anche minto. Come mai quando noi prendiamo ciascuno di noi come consumatore in un mercato di beni e prodotti normali ci poniamo il problema dei fallimenti di mercato, cioè della mancata allocazione efficiente attraverso il mercato, mentre quando andiamo al mercato delle idee e pensiamo tutti che il confronto tra varie idee possa migliorare e quindi rivelare la verità, riteniamo che lì siamo perfettamente razionali, invece questa cosa non funziona. Allora i casi sono due, se crediamo che il mercato produca esiti efficienti dimentichiamoci della regolamentazione anche del mercato dei beni, se invece riteniamo che c'è un problema anche cognitivo e di difesa nel mercato dei beni, nell'uso delle saponette dello shampoo, della forza del mapocio, il problema di che cos'è l'uso di idee o l'uso di informazioni. È semplicemente una provocazione e non arriva a delle conclusioni finali. Un altro economista premio Nobel come cose molto importante è stato tra i primi a evidenziare questi problemi cognitivi, cioè queste distorsioni dal lato della domanda. Cosa ci dice Kareman con un sacco di esperimenti che ha fatto? Le persone danno importanza innanzitutto le cose che riescono a memorizzare meglio. Sono indotte a credere di più a questioni che sono ripetitivamente comunicate a loro, indipendentemente dal grado di verità, tendono a ritenere più vere le cose più condivise dai propri prossimi e in qualche modo sono molto influenzati da qualunque segnale dei media perché ritengono che abbia avuto da qualche parte un momento di accertamento della verità. E loro in qualche modo, l'altro pezzo importante, una volta che si convincono di un belief, cioè che hanno una convinzione, tendono anche a interpretare altri fatti collegati a questo in un modo confermativo, confirmation bias, cioè in un modo che li riconferma nelle proprie posizioni. Questo ci porta alla questione falsificazione verso verificazione di Popper, cioè abbiamo un approccio verificazionista alla nostra conoscenza oppure no? Tendiamo a cercare informazioni che sono conferme dei nostri a priori? Ci basta vedere un fatto esterno per confermare che la nostra tesi è quella giusta oppure come sostiene Popper per difendere come giusta un'idea? Dobbiamo falsificarla, cioè basta che troviamo un controesempio ad un fatto di cui noi abbiamo una qualche idea che quel fatto evidentemente è falso. Verificazionisti verso falsificazionisti, più siamo verificazionisti più abbiamo confirmation bias, più siamo falsificazionisti meno lo siamo. Cass Sunstein è finisco, ha scritto un libro molto bello che si chiama Republic, adesso esce il Republic 2.0 e lui evidenzia come uno dei rischi di internet è esattamente il bias confirmation, cioè la ricerca di mondi che sono simili a noi, cioè questo mondo di grande libertà non è quello che abbiamo detto prima del marketplace o medias, questa enorme libertà di espressione che si manifesta in gruppi e in reti tende, e ci sono studi empirici su questo, non ad aumentare la falsificazione, ad aumentare una sorta di pluralismo determinato dalla concorrenza, tende a creare gruppi che non si parlano, tende a creare polarizzazione, tende a creare meccanismi di autoconferma. Questo che vedete è uno studio che è stato fatto da ragazzi italiani molto bravi che sono a Lucca e hanno fatto vedere quello in blu e sono, chiamiamole, bufale, quelle in rosso sono impatto di risultati di ricerca scientifica pubblicati. Il primo è come evolue nel mondo nostro, diciamo di internet, social network, eccetera, il rimbalzo, l'attenzione e il rimbalzo, la concentrazione su quella notizia e come avviene nel mondo dei giornali, diciamo così, scientifici. Quindi quando viene introdotto una nuova scoperta c'è un picco nel caso scientifico, poi l'attenzione decresce. Quando c'è una bufala che viene lanciata, questo rimbalzo è continuo e tende a crescere e accumularsi nel corso del tempo. Di lì, questo per loro, è la misura della polarizzazione ed è una ricerca empirica sulla confirmation bias. Morozov, non lo cito, insomma è uno degli attuali molto critici da questo punto di vista che sostiene che quello che muore nel web è un uso della diversità come incontro, invece che come autoselezione. Case è stato reso noto recentemente alle cronache perché è il primo sostenitore della post-verità, cioè dell'idea che effettivamente stiamo andando in un mondo nel quale non c'è più, diciamo, questo legame alla verità. Allora, questa è una lista di ottimisti e pessimisti del web. Le mie domande sono queste. Quando parliamo della libertà del marketplace of ideas, una delle questioni da porci prima di affrontare il tema regolatorio è la relazione fra libertà e verità. Verità lo dico tra virgolette, perché non parliamo di una verità assoluta. Verità la intendiamo nel senso originario del marketplace of ideas e di Foucault, cioè come l'interesse di una comunità di informarsi attraverso la libertà di espressione di tutti per conseguire un risultato che sia migliore della società e che sia un processo di acquisizione di conoscenza. Perché se non è questo, il tema grosso di cui dobbiamo discutere è proprio il tema della relazione dell'effetto sociale della libertà e non soltanto della libertà come effetto meramente individuale. Perché gran parte della dottrina che abbiamo citato e che viene citata nei libri passa da un mondo in cui l'unico problema per la libertà di informazione è il problema dell'offerta. Siamo oggi in un mondo in cui le questioni e le distorsioni del lato della domanda creano problemi seri di domanda, non dico di regolazione, ma di domanda, di finalità e di esiti di questa evoluzione e mi fermerei qua. Bene, ringrazio il commissario Nicita per questi interessanti spunti di riflessione sulla verità. Grazie. Grazie.